Meno tasse, più sicurezza. E questo l'appello della Confederazione Pescarese e dell'artigianato e della piccola e media impresa. Occorre elaborare una strategia dell'attenzione verso le attività commerciali e artigianali della città, si legge in un comunicato stampa, che coniughi la riduzione delle imposte locali, sviluppo di servizi, sicurezza e lotta al degrado. Troppe saracineschi abbassate, denunciano i negozianti, che propongono una riduzione della tassazione a carico dei proprietari e dei locali che si impegnano ad affittare a prezzi da concordare. La CNA Pescara affronta anche la questione viabilità. Secondo la Corporazione dei Commercianti, lo sviluppo della mobilità sostenibile e l'aumento delle piste ciclabili potrebbe risultare un freno all'economia cittadina e anche in questo caso occorre abbassare le tasse. Se in una via si cancellano i parcheggi, si legge nella nota, chi ha un'attività in quella zona deve poter monetizzare il sacrificio. Anche la CNA Pescara infine ripete il mantra della lotta al cosiddetto degrado. I commercianti hanno paura del buio, quando il sole tramonta, a detta della Confederazione, Pescara diventa terra di nessuno. Ed è per questo che la CNA chiede una maggiore illuminazione artificiale, ma anche più vigilanza e più telecamere per proteggere le vetrine, i consumi e l'immagine che i turisti hanno del capoluogo adriatico. Grazie.